Molto soddisfatto, è un obiettivo molto alto per me, essere stato riconfermato, aver dato la fiducia alla società e anche all'allenatore e spero di migliorare ancora quest'anno. Ho scelto il numero 9 perché è uno dei miei numeri preferiti e l'ho cambiato dall'anno scorso, l'anno scorso avevo il set, però quest'anno ho il 9 che è il mio secondo numero preferito. Sì, la squadra ci sono stati dei nuovi inneschi e con gli altri già mi trovo bene, con i nuovi giocatori stiamo legando abbastanza, anche fuori dal campo, ci ritroviamo a cena fuori e siamo praticamente sempre insieme. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.